Ciao ragazzi, ciao a tutti. Dopo sei mesi e ventitré giorni siamo tornati più o meno nelle tempi, siamo nel tempo e sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere tornato nel mio stadio con una vittoria, quindi ancora più bello. Vi aspettate per dare tutto e per vincere. Ciao ragazzi, un abbraccio, forza a Milan sempre!